scuola tutti in avanti simpatico cos'è il suo servo di cazzo in giro un pochino a fare dei salti e poi dopo andiamo a fare i tuoi ecco la fatale la giura di me a se le pronti Adesso la facciamo al contrario, e poi andiamo a fare due. Eccolo qua. Andiamo a fare due ring. Eccolo qua. Iniziamo colore 150, nera, nitro, per 200 dollari, ruote, queste, messe, e idraulica. No, aspettato, ho sbagliato, idraulica. Inseriamo 1,5. Facciamo il regalo. Ed eccolo qua. Ciao. 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 Ciao.